Mercato concluso, rivoluzione radicale della Rosa dello scorso anno sono rimasti solo in grosso Cancellotti delle Monache, in prestito dalla Sampdoria, Chiarella e Blanuta. Reparto offensivo costituito da ben nove elementi, quattro le punte centrali. Nella giornata conclusiva due innesti, gli attaccanti Edoardo Vergani, classe 2001, scuola Inter a titolo definitivo dalla Salernitana e Jacopo De Sogus, classe 2002, in prestito secco dal Cagliari. Ecco il nuovo organico del Pescara per la stagione 2022-2023, portieri Plizzari, Sommariva e Daniello, difensori Saccani, Cancellotti, De Marino, Milani, Brosco, Pellacani, Ingrosso e Boben, Centrocapisti Palmiero, Craia, Aloi, Mora, Giabuà, Germinario e Crecco, attaccanti Lescano, Tupta, Vergani, Blanuta, Cuppone, Delle Monache, Colai, Chiarella e De Sogus. La lista deve essere composta da 24 professionisti, più un calciatore nato dopo il 1 gennaio 2003. Dunque fuori lista quattro giocatori, Rasi, D'Aloia, Madonna e un altro da decidere. Alcuni mercati esteri ancora aperti possano rappresentare una soluzione. Meic e Amore saranno aggregati alla primavera di Ledian Memusciai. Queste le operazioni in entrata a titolo definitivo. Tutti di proprietà. Plizzari, Sommariva, Daniello, Brosco, Pellacani, Milani, Palmiero, Aloi, Lombardi, Mora da Svincolato, Germinario, Lescano, Tupta, Vergani, Cuppone e Colai. Operazioni in entrata in prestito. Saccani, De Marino, Boben, Craia, Giabuà, Delle Monache in prestito dalla Sampdoria e De Sogus. Operazioni in uscita. Sorrentino, Nzita, Elisalde, De Marchi, Clemenza, Di Grazia, Bocic, Borrelli, Delle Monache, Lombardi in prestito all'Alessandria, Belloni, Frascatore e Veroli ceduto a titolo definitivo al Cagliari. Ora il campionato. Domenica il debutto all'Adriatico con Lavellino, inizio ore 20 e 30. Aloi indisponibile. Germinario si candida per una maglia da titolare davanti nel probabile 4-3-3 assai. Verosimile l'impiego del primo minuto di Marco Delle Monache nel tridente, completato da Lescano e Cuppone.